Commento alla politica di Aristotele di Sant'Ommaso d'Aquino Capitolo VIII. Le conseguenze dell'avidità di denaro L'Aquinate parte analizzando il testo aristotelico, che proprio al principio del capitolo presenta quella che potremmo definire un'autentica perla metafisica, ovvero che il fine delle arti, come per esempio la medicina, è senza limiti. Quindi vediamo che, tecnicamente parlando, si pensa che la crematistica, che ha descritto nel capitolo precedente, cioè l'arte di fare denaro col denaro, di trarne un profitto, sia anch'essa senza limiti, e così si spiega quello che è il desiderio che tutti abbiamo di una ricchezza sempre maggiore. La casa e la città, però, non hanno bisogno di beni limitati. La sete sconfinata di denaro, quindi, è il frutto di quella che Aristotele chiama una mentalità sbagliata, che è protesa a vivere basta, e non a vivere bene, e a realizzare il bene della polis, della città. E se poi si pensa a vivere bene, ci si ispira ai beni materiali, e ne segue la corsa all'eccesso. La politica, infatti, organizza gli uomini, ma, attenzione, non li crea. E quindi, così come il tessitore non fa la lana, ma la utilizza, allo stesso modo vale per la politica. E l'economia, di riflesso, deve utilizzare bene di provenienza naturale. E quindi, un'arte come la crematistica, che miri unicamente a produrre denaro, è, si capisce, inaccettabile. Il massimo di questa condanna è la pratica di lusura. Aristotele dice che essa è la più opposta alla natura dell'uomo, perché l'interesse della somma prestata è considerato figlio del denaro, mentre, a ben vedere, il denaro non produce nulla. Dunque, vediamo che si tratta di una visione pessimistica dell'attività finanziaria in generale, come già aveva espresso nei due capitoli precedenti. E le motivazioni che portano Aristotele a questa conclusione così rigida sono fondamentalmente due. La prima è una concezione estremamente naturalistica del mondo, in cui, perciò, il denaro ha un valore puramente convenzionale, e quindi, come tale, è anche fittizio instabile. La seconda motivazione è l'economia statica dell'epoca, che era costituita essenzialmente dai fondi immobiliari agricoli. L'attività commerciale non era certo ignorata, attenzione, ma specialmente quella marittima, se consideriamo l'epoca greca in cui ha vissuto, però, tuttavia, il commercio non è mai stato, non è mai riuscito ad allontanare da selle umbe le prepressità morali degli intellettuali. San Tommaso cosa farà? Prende il brano, che è oggetto di un'analisi molto dettagliata, e scrive, appunto, in lungo e in largo. Le divisioni del testo che fa sono quattro, e l'ultima è formulata in un modo inedito, e anche un po' atipico, perché inizia subito con una frase di Aristotele. E insiste, attenzione, sull'equivalenza tra beni naturali e beni necessari, cui dedicherà una parte. I tecnicismi lessicali che si trovano in questa descrizione di Tommaso su Aristotele sono tre. Parla di obolo statica, che riproduce alla lettera la parola con cui Aristotele indica la pratica dell'usura. La radice greca è l'obolo, cioè la moneta di infinimo valore, come un centesimo di qualche decennio fa, o una vecchia lira che non ha più valore. Tommaso fornisce un sinonimo all'obolo statica, e si tratta della statuitiva, che nella spiegazione che ne dà Alberto Magno, suo maestro, la radice latina fissare indica il tasso di interesse che si praticava. Il terzo tecnicismo finanziario è l'usura. Tommaso riporta, in modo un po' diverso dall'etimologia di Aristotele, dal greco tokos, che vuol dire figlio, dalla radice del verbo greco ticto, che indicava invece la partoriente in procinto dell'evento. Quindi l'aquinate invece evidenzia il parto, il capitale partorisce, cioè genera l'interesse. Dal punto di vista dei contenuti, va detto che Aristotele differenzia solo lo scambio naturale dalla crematistica, la quale ovviamente ha un utilizzo esagerato nell'usura. E Tommaso individua tre forme di crematistica, che sono il commercio, il gioco sulle valute e l'usura. Fa poi un accenno all'arte commerciale, con cui abbiamo tradotto peraltro l'aggettivo mercativa, che appare, termine che non si trova né nel greco aristotelico, né nella traduzione latina medievale, e neanche negli scritti del maestro di Tommaso, che era Alberto Magno. Si tratta di una parola ricorrente nelle rettelature dell'epoca, attenzione, che è probabile che derivi da radice Merckx, che nel latino dotto di Roma indicava qualsiasi merce, come per noi oggi. E l'origine, addirittura di questa parola, risale al periodo etrusco, con l'affinità a Mercurio, considerato il protettore dei commercianti. Appare una vera e propria teoria biofisiologica su questa scia, che il feto dell'animale si forma con il sangue delle mestruazioni, la cui parte non utilizzata si trasforma in latte per i neonati, e si rifà all'opera esoterica la generazione degli animali, che Tommaso appunto riprende commentando la politica. Oggi però, attenzione che molti studiosi sono un po' discordanti su questa interpretazione, ritengono che quello scritto sia stato molto manipolato dai scepoli di Aristotele. Ovviamente emerge un giudizio negativo sul prestito a interesse attraverso tutta la storia dell'uomo, già dall'antichità. Nel Medioevo questo problema era esploso, peraltro, durante l'attività usuraglia che si trovava negli ebrei, protagonisti più efficienti, quindi più colpevolizzati in questa pratica. E Tommaso si è interessato anche a questa problematica, peraltro, dedicandogli una sua piccola operetta. In merito poi ai guadagni dei commercianti, la quinata è stato il primo della sua epoca ad ammettere la liceità del profitto, là dove si tenga conto delle circostanze in cui ovviamente avviene la compravendita. E ha riconosciuto che le capacità commerciali, peraltro, sono personali. Allora, entrando dopo questa introduzione nel vivo del testo, la prima divisione, che dal testo alistotelico originale siamo al 1257b, Tommaso, dopo aver illustrato come lo scambio delle monete debba le sue origini alla legge, come fatto da Aristotele, fa vedere come tale acquisizione di denaro non abbia confini. Aristotele, infatti, sviluppava il discorso in due fasi. Nella prima fase formula la sua tesi, nella seconda individua le osservazioni fatte. E su questo primo punto, la prima fase della formulazione, fa due considerazioni a sua volta. La prima, che contiene il suo postulato. La seconda, che trae da quanto è addetto la soluzione di un dubbio. Il primo punto fondamentale è la sede di denaro, che abbiamo detto è illimitata. E innanzitutto, Aristotele sostiene che la ricchezza procurata da questa specie di attività finanziaria, che è l'arte campsoria, che si occupa esclusivamente dei soldi, è illimitata. E la dimostrazione di tale assunto è la seguente. In ogni arte, il desiderio del fine non ha limiti. Invece, i mezzi per raggiungere il fine non sono oggetto di un desiderio infinito, ma limitati dalla norma e dalla commisurazione del fine stesso. Aristotele, riporta a Tommaso, fa l'esempio della medicina che si prefigge la guarigione del malato. Nel senso che combatte peraltro senza sosta la malattia per fargli riacquistare la salute. Con ciò, tuttavia, la medicina non somministra tutti i farmaci di cui dispone, ma nella misura in cui sono utili per far guarire. E lo stesso vale per tutte le altre arti. Quindi, che succede? Che il fondamento di ciò che sta nel principio che il fine di ciò, scusate, sta nel principio che il fine è in sé stesso oggetto di desiderio. e ciò che è tale in sé ove cresce sarà maggiormente ciò che è già. Applicandolo al denaro si vede che quest'ultimo si trova in un rapporto di fine nei confronti della finanziaria camsoria, dato che questa si prefigge lo scopo di acquisire denaro, no? E invece, nei confronti dell'economia il denaro non ne costituisce il fine ma il mezzo ordinato al fine che è quello di provvedere alle necessità della famiglia. La conclusione che quindi tira Tommaso è che l'arte finanziaria per Aristotele cerca denaro senza porsi il limite mentre l'economia ha un suo confine e un suo ordine al bene. Nella seconda divisione del testo ci sono due fasi. Nella prima fase Aristotele formula l'interrogativo che ci si pone e nella seconda dà la risposta. Qual è il punto? che anche gli uomini vorrebbero avere sempre maggior denaro. Aristotele osserva che le considerazioni appena fatte indurrebbero a pensare che l'economia debba assolutamente avere un limite alla ricchezza di cui disporre. Tuttavia che succede che se si considera realisticamente come vanno le cose si ha la sensazione che in realtà sia il contrario. Infatti tutti gli economi accrescono la quantità di denaro potenzialmente all'infinito volendo avere i soldi per i beni che si utilizzano per vivere. Sorge così quindi un terzo punto che è quello dell'affinità tra l'economia e la campsoria che dà la risposta all'interrogativo che si è posto. E cosa fa Tommaso da Quino? Rileva che la causa della diversità evidenziata va ricercata nell'affinità che esiste tra le due attività finanziarie cioè quella che è in funzione dell'economia e che cerca il denaro per scambiarlo con i beni necessari per la vita e quella invece campsoria che cerca soldi per se stessi per un profitto. Queste arti finanziarie svolgono la medesima attività certamente cioè la ricerca di denaro in senso stretto però con intenti differenti e nella finanziaria economica ciò è ordinato a un altro file vale a dire alla gestione della famiglia al bene comune invece nella finanziaria pura vale a dire nell'arte campsoria il fatto stesso di accumulare denaro ne costituisce il fine potremmo dire è fine a se stesso e tala affinità tra la campsoria e l'economia crea a volte negli economi la mentalità che il loro compito sia quello specifico dei campsori cioè di dedicarsi ad accumulare e accrescere il denaro in maniera illimitata allora Tommaso fa una terza divisione del testo dove evidenzia il motivo che crea la mentalità a cui ha accennato per cui gli amministratori della famiglia a volte continuano ad accrescere le loro risorse potenzialmente all'infinito e siccome dal motivo che l'autore evidenzia derivano alcuni abusi c'è una prima parte che viene divisa in tre sezioni corrispondenti rispettivamente a tre abusi che riscontra che appunto l'abbiamo detto sono la concupiscenza umana proiettata all'infinito il secondo abuso è quello dell'inserire nell'economia domestica un'attività finanziaria non necessaria il terzo abuso è quello della corruzione e della concussione riguardo riguarda il primo tommaso comincia rilevando che l'origine della mentalità evidenziata cioè degli amministratori delle famiglie che si impegnano ad accrescere risorse illimitatamente va ricercata dove? nel fatto che gli uomini si preoccupano di vivere comunque senza badare a condurre una vita buona cioè a vivere secondo virtù se infatti cercassero di vivere bene si accontenterebbero di quanto è sufficiente al sostentamento della loro persona o delle loro famiglie però dal momento che trascurando tale principio vogliono condurre un'esistenza rispondente ai loro desideri individuali ognuno tende a procurarsi sempre più mezzi con cui pagare e a pagare la sua volontà quindi l'umana concupiscenza dice Tommaso del resto è proiettata sull'infinito e quindi gli uomini bramano senza limiti quanto può soddisfare la loro concupiscenza scrive Tommaso esistono sì delle persone che si sforzano di condurre una vita onesta ma alla vita virtuosa aggiungono i piaceri fisici costori infatti sostengono che l'esistenza umana non è buona se l'uomo non l'accompagna con queste soddisfazioni per questo motivo essi cercano di procurarsi quanto serve ad avere i piaceri fisici per realizzare tale fine la gente pensa che il mezzo sia l'abbondanza di ricchezza per cui ogni loro preoccupazione sembra consistere nell'accumulare molto denaro allora qui va notato anche che Aristotele evidenzia l'obiettivo della funzione degli amministratori domestici desumendolo dal senso della vita umana in quanto abbiamo ripetuto l'amministratore della famiglia ha come scopo la vita buona dei membri di essa quindi il primo abuso consiste in che cosa nel fatto che gli uomini mancando di un sano impegno a vivere virtuosamente ordinati al bene sono tutti protesi ad accumulare denaro illimitatamente il secondo abuso abbiamo detto è quello di inserire nell'economia domestica un'attività finanziaria che non è necessaria dal fatto che gli amministratori della famiglia cercano di procurare risorse economiche subentra nella gestione domestica un'altra specie di arte finanziaria che è quella camsoria come già detto essa si aggiunge a quella che è propria dell'economia cioè l'acquisizione dei beni per l'esistenza questi amministratori però esorbitando dai loro compiti si prefiggono pure di godere dei piaceri fisici la conseguenza è che cercano di procurarsi i mezzi per concretizzare tale successo vale a dire una ricchezza sconfinata questo è il secondo abuso che consiste appunto nell'inserire nell'economia un'attività finanziaria che non è né naturale né necessaria questo abuso che abbiamo detto occorre dalla corruzione e dalla concussione allora succede a volte che gli uomini non riescono a procacciarsi con l'arte finanziaria le risorse con cui vogliono soddisfare loro eccessi quindi ricorrono a una forma di potere di cui essi non dispongono inizialmente ma che la ottengono cioè la virtù dice Aristotele oppure l'arte o la mansione che occupano non secondo la loro rispettiva natura e fa un esempio così per esempio la fortezza è una virtù la cui funzione specifica non è quella di accumulare denaro ma di rendere l'uomo coraggioso nell'aggredire il nemico e nel resistere perciò se una persona si serve della forza per procurarsi la ricchezza non ne usa secondo il suo fine naturale analogamente fa notare Tommaso l'arte militare si prefigge la vittoria e la medicina per scopo la salute del corpo nessuna delle due però ha come fine il denaro eppure esistono degli individui che si servono sia dell'arte militare che dell'arte medica per procurarsi denaro e così facendo rendono le due arti finanziarie vale a dire atte a procurare denaro quindi orientando l'esercizio di tale arti verso la ricchezza quasi che essa costituisca in un certo senso il fine al quale tutto va subordinato e per questo appunto si è scritto che il denaro risponde a ogni esigenza dice Tommaso riprendendo il libro del Coelet 10-19 però vediamo che la finanziaria ha due limiti Tommaso conclude dunque riassumendo dalle considerazioni fatte a proposito appunto della finanziaria non necessaria che essa in effetti dimostra di essere e per quale motivo gli uomini ne sentono il bisogno l'effetto della concupiscenza illimitata anche a proposito della finanziaria necessaria si è detto quale essa sia cioè che si differenzia da quella precedente in quanto si procura ricchezze fino a un determinato limite che si prefigge un fine diverso cioè quello di ottenere risorse indispensabili per la vita ora rigorosamente parlando l'economia ha come suo oggetto i beni che sono conformi alla natura quali sono quelli che concernono le cose da mangiare investire la casa e tal'attività non è infinita come la finanziaria precedente come la camsoria ma ha dei confini ben precisi oppure si può dare un'altra interpretazione la finanziaria necessaria si differenzia dalla finanziaria non necessaria avendo una funzione economica il resto non cambia la quarta quarta e l'ultima divisione del testo che Tommaso fa piuttosto lunga prende il fatto che Aristotele aveva sollevato il dubbio se l'arte finanziaria costituisca una parte dell'economia oppure se ad essa sia sussidiaria e aveva distinto la finanziaria dalla forma di arte della proprietà e adesso fornisce la risposta al quesito che aveva posto e questo tema viene sviluppato in una duplice analisi nella prima analisi mostra come la finanziaria sia ausiliaria all'economia e nella seconda analisi spiega come esiste una finanziaria che è lodevole e un'altra che invece è condannabile la prima analisi a sua volta viene condotta in tre frasi la prima risponde al quesito formulato in precedenza la seconda solleva un ulteriore dubbio in terzo luogo invece illustra una concezione che aveva già espresso allora vediamo che la natura e la finanziaria sono ausiliari dell'economia domestica Tommaso osserva che già da quanto detto prima può risultare evidente quanto ci si chieda sin dall'inizio cioè se la finanziaria rientri nelle competenze dell'economo e del politico oppure no esulando completamente da esse la risposta giusta a questa domanda è che la finanziaria non si identifica con l'economia come abbiamo visto tuttavia l'è ausiliaria in quanto la gestione di una famiglia presuppone che esistano delle risorse patrimoniali la dimostrazione di questa tesi è la seguente scrive Tommaso sia la famiglia che la città hanno bisogno della presenza di persone e di quanto è necessario al loro sostentamento ora la politica non crea gli uomini ma li riceve procreati dalla natura e così si serve di loro analogamente dunque la politica o l'economia non preparano il cibo ma è la natura a produrlo per esempio dalla terra ai frutti dal mare ai pesci oppure altro da altre fonti di conseguenza la preparazione o l'acquisto di tali cibi non sono un compito specifico e immediato della politica o dell'economia la cui funzione è proprio quella di distribuirli nella famiglia a seconda delle esigenze così pure constatiamo prosegue la quinate che il lavoro del tessitore non consiste nel fare la lana ma nel servirsene discendendo discernendo scusate quale sia adatta alle sue confezioni da quella cattiva e inserviva vediamo quindi che la conclusione è che l'economia riceve un contributo sia dalla natura che genera l'uomo e produce i cibi sia anche dall'arte finanziaria che provvede ad acquistare beni così come l'arte del tessere come l'esempio fatto viene aiutata sia nella natura che le fornisce inolana sia dall'arte che il commerciante che la compra ora proseguendo vediamo che la salute non è compito dell'amministratore né del politico solleva infatti un interrogativo Aristotele che è il seguente dal momento che i membri della famiglia hanno bisogno della salute così come devono necessari per vivere quali sono il cibo il vestito perché l'arte della medicina non costituisce una parte dell'economia così come invece lo è la finanziaria allora la risposta che individua anche Tommaso è che la responsabilità dell'amministratore della famiglia e del sovrano della città nei confronti della sanità è soltanto indiretta rivolgendosi ai suggerimenti del medico per ciò che concerne la salute dei loro sudditi la responsabilità diretta infatti non rientra nei loro compiti ma spetta ai medici provvedendo cioè i mezzi con i quali si può conservare o restituire la salute analogamente l'amministratore domestico deve interessarsi della ricchezza limitatamente cioè usandola quando già è stata procurata e avvalendosi anche dell'opera di coloro che hanno il compito di procurarla la valutazione però delle fonti e delle modalità con cui acquisire tale risorse patrimoniali non spetta all'economo ma all'arte usiliaria cioè la finanziaria allora vediamo che la natura nutre le sue creature Aristotele illustra il principio formulato in precedenza cioè che la natura fornisce beni necessari per vivere e come abbiamo già visto formula il principio che i beni che si servono sia dell'economia che della politica devono assolutamente preesistere forniti dalla natura dalla quale li ricevono pure le arti ausiliare e tale principio viene dimostrato dalla deduzione che spetta la natura che è quella di fornire il cibo all'essere generato secondo essa stessa secondo natura constatiamo che la parte residua di ciò da cui è prodotto un essere costituisce il nutrimento dell'essere generato dice Tommaso vediamo che l'animale viene generato dal sangue della mestruazione e che la parte residua di tale materia nella natura la trasforma in latte preparando così il nutrimento all'essere che è stato generato così poiché l'uomo è formato da elementi naturali il suo cibo è fatto da altre sostanze che sono anch'esse di origine naturale è questo il motivo per cui l'arte finanziaria è naturale a tutti gli esseri umani si tratta cioè di quella che acquisisce i cibi o le risorse per il cibo fatto di sostanze naturali vale a dire di frutti di animali il fatto invece che qualcuno si procuri ricchezza non ricavandola dai beni naturali ma dal denaro stesso non è conforme alla natura ecco quindi che ci troviamo di fronte alla condanna dell'arte camsoria perché avendo spiegato come esistono due arti finanziarie dimostra adesso quale delle due sia rodevole e quale è condannabile primo punto Aristotele ricorda che esistono due attività finanziarie la prima denominata camsoria quella cioè che guadagna da denaro prefiggendosi come fine il denaro stesso in un secondo luogo l'altra attività finanziaria invece ha la funzione economica in quanto ricava denaro dai beni naturali e di questa seconda va detto che essa è necessaria la vita umana per cui viene anche lodata la prima al contrario si trasferisce dall'ambito dei beni necessari alla natura alle brame della concupiscenza come è stato detto in precedenza e per questo viene giustamente condannata e Tommaso riprende questa medesima condanna tale arte finanziaria non è conforme alla natura sia perché la sua attività non si esercita su dei beni naturali sia perché non ha lo scopo di venire incontro alle esigenze della natura e la campsoria nasce piuttosto scambiando le monete tra loro in quanto cioè l'uomo lucra denaro dallo stesso denaro ora siamo all'obolo statica che è appunto l'eccessiva attività speculativa se viene giustamente condannata quest'arte finanziaria rappresentata dalla campsoria esiste ancora un'altra che fa guadagnare denaro e questa a pieno titolo viene detestata e odiata che è appunto quella che prende il nome di obolo statica cioè statuitiva dei soldi come fanno coloro che guadagnano in modo eccessivo stabilendo il valore del denaro e tale incremento finanziario si ottiene dal denaro stesso dice Tommaso e in modo non conforme alla prima attività finanziaria originata per procurarsi il denaro come abbiamo già visto la moneta è stata escogitata per il baratto cioè per effettuare i scambi siamo dunque al punto conclusivo che è quello dell'usura ovvero il denaro che partorisce denaro scrive Tommaso esiste poi ancora un'ulteriore attività per lucrare denaro a cui in greco si dà la denominazione di tokos cioè l'usura con essa il denaro si moltiplica da solo infatti il termine tokos significa parto ora noi vediamo che in natura la creatura partorita rassomiglia ai genitori per cui quando il denaro si accresce mediante il denaro si verifica una specie di parto di conseguenza tale acquisizione di denaro è la più strana e la natura in quanto la natura esige che il denaro sia guadagnato dai beni naturali non invece dal denaro dunque l'arte finanziaria è lodevole mentre le altre tre attività sono da condannare